Ok, dai. Allora, oggi giochiamo il versus attacco, che non è, non penso sia la partita, sennò non è la partita. Praticamente, devi fare i tiri in porta, in poche parole. L'altro FIFA era più forte, cioè qua non c'ho mai giocato. C'ho giocato ma poco. Ok, questa è la nostra formazione, questa è la formazione del guaglione, di qualcuno francese, che non si fa il bidet, a quanto pare. Ah, questo. Sempre da bene. Questa è un'ottima occasione, eh, 2-0. Francese, francese. Potrebbe anche essere, non lo so, aramaico, però non lo so. Armando, cioè si potrebbe anche chiamare Onofrio, però non lo sappiamo. Oh, no. Peccato. Peccato. No, eh dai, è più forte d'Orval. È forte d'Orval, eh, cioè, non quanto un giocatore di serie A. Veni giù, eh, è forte, è forte. Ma, eh, stiamo stracciando a questa, eh. Eh, eh, fanculo. No, non ti dici. Eh, Allanda, eh, va a fanculo. Eh, che c***o. In quante parole, c'è una sola frase. No. Non mi puoi fare il 4-1. E io te faccio. Ma, ma che gol, bellissimo. No, questi non stanno gli europei. Eh, io potrei prendermi un debito, i debiti estivi. No, no. Oh, 6-2. Oh, il Bari che distrugge il Paris Saint-Germain. È incredibile, eh. 7-2. Cioè, ma pensa un po' a una partita di Champions. Bari, Paris, 8-2. Cioè, ma vedi un po'. Cioè, ma vedi questo? Che sfigato deve essere farsi battere dal Bari. Che sta in Serie B, un'altra posta in Serie C. No, vabbè. Ci vediamo prossima. Non so se... Boh. Quando ho giocato in casa, non lo so. Tz7. Ah, è perché ovviamente CR7 non sarà più. Tz7, si è, si è dovuto inventare. Bari al Gio Paoli contro Tz7. Nicola, come dovrei salvare il nome? Scusate. No, effettivamente. Scrivono, è ancora da bere. No, è che avevano da bere. Eh. No. Pensa a farsi battere dal Bari. Vado. Eppure. Ci sono delle nazioni che se giocassero contro il Bari, vincerebbe il Bari. Tipo il Guinea. Ma forse il Guinea lo batterebbe il Bari. Oh, 2 a 1. Questa è critica. Vinicius. Mamma mia. Oh, ma che è Vinicius oggi? Cioè, è proprio impazzito. Sempre the best. Oh, quando... Quando tira lui non fa mai niente. 1, 2. Pam. Che palle. Eh, sfigato nel piede. Haaland. Madonna. Oh, ma i portieri li hanno potenziati in questo gioco. Haaland. Oh, e che pa. Col. 4 a 2. Oh, ma chi sono? Ottaviano. Eh, perché l'ho studiato il mese scorsa. Eh, quindi. 1, 2. Troppo, troppo, troppo. Oh, eh, però, eh. Farsi battere 5 a 2 dal Bari. 6 a 2 dal Bari è... Canta roba. Cioè, io mi sentirei proprio... È un onore. Un onore. 6 a 3. Cioè, ma pensa un po'. Ma sai che onore è di battere dal Bari? Cioè, ma... Non è che sto dicendo, eh. Sono di Bari. Penso un Bari così fo... Oh, Dio! Campionato ha vinto e vai. Terza categoria. Siamo in... In terza categoria. Che stiamo in categoria a zero? Ah, Cino Paoli. 12... 13... 13... 12esimi cardo in classifica. È un po' schifo. Dv... Fantastico! Oggi al San Nicola di Bari. Vediamo Cino Paoli contro... Dv... Cazzo è di... Mamma... C'è... No, volevo... Bari... Contro il Milan! Pensa il Milan che viene... Ok, poi... Io... Ehm... Giuventino... Quando ho scoperto che il Bari ha distrutto la Juve per 3 a 0... Oggi sono rimasto un po' di merda. C'è la Juve che aveva quell'anno. Mi pare Pirlo. Allora, questa è bella la difesa. Beh, insomma. Aveva Pirlo, mi pare. E si fece battere dal... Dal Bari... 3 a 1. C'è 3 a 0. Ma stiamo scherzando? E adesso il Bari non riesce a battere neanche... Il... Il... Il rigore! Ma è messo elegante il portiere? Ma? Sembra che divendrà catturato al Remo! Ma che cazzo? Eh! Eh! Goal? Peccato! Poteva essere una bellissima azione, però non lo ha detto. Vinicius! Vinicius? Alan? Oh, ma Alan lo sta facendo? Quello scarso! Oh, aspetta. Aspetta che sto registrato. Is that pretty the best? Nah, 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 nah. Go! 2 a 1. 3 a... Aspetta che sto registrando. 3 a 1. 3 a 1. Oh, gol! 5 a 1. Ma chi sono? Ma chi sono? Gianni Morandi! Ma Marco Paolo si è forte! Ah, schifo! C'è, farsi... Distruggere dal Bari! Beh, allora... E poi Gino Paolo dice... Barry Manchester! Per dirvi, se questa si va a battere da me... E' proprio scarso! E' proprio un coglione! Dai, prima o poi, 1 a 1 la devo perdere! Vabbè, da! Vinicius! Ma che cazzo? Pam! Oh, è che paolo! Fuori! Oh, è che paolo! Ci siamo, ci siamo! Goal! Ehi, dopo mezz'ora! Dai, è modi... Arrafica! Non è vero! Cioè, volevo dire! Goal! Madonna! 2 a 0 del Bari! Ma... Ma che stiamo dicendo? Stai scherzando! Alland? Cioè, come mettere? Alland che non mi fa gol! Al Bari! Goal di Alland! Oh, finalmente un gol di Alland! Cioè, per dire, no? Non segnavo più! Complimenti! 3 a 1! Dai! Madonna! Il Bari più forte del mondo è questo! In Champions League è il Bari! Se si poteva giocare in Champions con il Bari, mi sarei fatto una bella Champions! Il Bari che avrebbe vinto la Champions League! No! Eh, che ball! Eh! No! Eh! Goal! Mamma, è troppo fatto! 5 a 1! Il Bari gli estruge anche la Manchester! Ah! Cioè, ma vero? Il Bari che gli estruge la Manchester! No, vabbè! Ok! Il Bari è il Bari! Grazie a tutti